Abbiamo scelto appunto di fare questa installazione al Salone del Mobile visto che è una delle piene più importanti del settore a livello mondiale e soprattutto ha una selezione di persone che si occupa appunto dei design che interessa molto la del posto. Puntiamo sulla qualità, puntiamo sul lifestyle di lusso e direi che mentre del Salone del Mobile in Italia non c'è.